facciamo un'impennata dopo una non caduta sono andato contro il guarda ride 5 all'ora però è stata vediamo ancora se la metterò bene sento un po' tremare un po' tutto avanti il parafango si è piegato però adesso andiamo a casa facciamo un po' una resa dei conti vediamo un attimo non c'è di successo mi sento un po' tremare però sono tante grosse attacchi da ruota andiamo a casa a vedere che è successo non c'è non c'è non c'è non c'è